Ciao ragazzi, allora un saluto direttamente dalla mia palestra, pausa pranzo, anzi non pranzo, do giusto qualche sistemata e faccio un po' di pulizie prima di tornare al lavoro. Allora voglio fare il grande annuncio stasera, mega live, mega rissa reale, sul canale di Mario Inter dove ci saremo Mario, Fabio Bergomi, Diego Ligorio, interista tedesco della Baviera e il sottoscritto. Tema della live, canteremo e grideremo al motto di Juventino, pezzo di Milan. Cercheremo di dare un po' più di enfasi alla nostra rivalità contro i pseudo tifosi della Juve, una squadra che ha qualche Ultras, questo non lo devo negare, aveva qualche Ultras ma zero tifosi, zero passione, zero colore, non a caso sono nero e bianchi. Quindi voi che odiate come noi la Juve, sintonizzatevi alle 9.30 sul canale di Mario Inter e dopo parleremo anche di Lautaro, parleremo del Barcellona, di Messi, sogneremo. Ma l'obiettivo principale è continuare a dominare dal punto di vista del tifo contro una tifoseria, quella bianconera, che non esiste e forse neanche nel passato è mai esistita. Ok? Quindi vi aspetto sul canale di Mario Inter alle 21.30 di questa sera, oggi venerdì. Non mi chiedete il giorno il numero del mese perché non lo so, tanto tutti i giorni sono diventati uguali, quindi non abbiamo nulla a che fare, non ci possiamo allenare, non possiamo uscire, c'è chi vuole andare al bar a briagarsi non si può briagare, c'è chi vuole andare ad escort, utilizziamo un termine, non può andarci, chi vuole andare a correre non può andare, e cosa fare alle 9.30 dopo mangiato? Dormire è troppo pesto, i film, serie tv, li abbiamo visti tutti, tutti sul canale di Mario Inter, ok? Se siete capitati per caso su questo canale e vi risulto, ma lo vedo difficile, una persona simpatica, iscrivetevi e attivate la campanella e magari andate a vedere qualche mio video che è chiudo. Ciao ragazzi, vi aspettiamo sul canale di Mario, Forza Inter e Juventino, pezzo di Milan.